Oh, uè te ! Ma che cosa c'hai da guardarmi così ? Mi fai fino a po' ura ? Uè te, c'hai una faccia che sembri uno che c'è mal di pancia, c'è mal di pancia davvero ? Sarà colpa della birra gelata, guarda, certe volte la birra gelata... No, coppa tua è ! Mia di me ! E perché ? Scusami, scusami ancora. Mi fa piacere per cortesia che un bagno è tutta spiace sotto il bacio. Ma ? Per piacere, per cortesia. Ma hai testa ? Lo chiedi per cortesia ? Per piacere. Per cortesia. Ma uè !